E' stata una vittoria con emozioni dall'inizio fino alla termine della gara per il Gela sul campo della San Cataldese, un successo che permette alla squadra allenata da Totò Brucculeri di fare un ulteriore passo in avanti nella classifica generale del campionato di Serie D, Gironei. L'obiettivo dei bianca-azzurri è raggiungere quanto prima la salvezza matematica prevista a quota 42, come afferma il difensore Simone Brugaretta. Una vittoria ci consente di ottenere la salvezza matematica, diciamo che ci mancano due punti per essere più tranquilli. Comunque fare punti domenico vuol dire anche affrontare le prossime partite con la mente libera e di stare più sereni. Adesso affronteremo una partita molto importante per noi, visto che guardando il prossimo turno ci sono degli scontri diretti e delle partite abbastanza toste sia per chi ci sta sopra che per chi ci sta sotto, perciò è un'occasione importante e dobbiamo cercare di vincerla a tutti i costi. Nella prossima partita in programma domenica ci sarà un'altra gara importante, probabilmente allo stadio Dino Liotta di Licata contro la cittanovese. Nel 14 mesi che c'è lo stadio chiuso i tifosi non hanno potuto vedere molte volte le partite, ora diciamo che giocando a San Cataldo, Licata hanno visto qualche partita ma non è la stessa cosa di giocare a Gelo, perciò meritano questa vetrina ma soprattutto la merita anche la società che sta facendo dei sacrifici molto importanti e penso che altre persone al loro posto non avrebbero fatto ciò che stanno facendo loro con tutti questi problemi che ci sono. Grazie.